Ci siamo, sta per sedere sul palco, Nicola Porro e Elon Musk. Buongiorno, avete già capito che Elon vuol dare un messaggio molto chiaro, very strong message Elon, you're right here with your son, one of your son, so demographic for us is so important. Yes, you know, I think this is important to always... Ragazzi, fotografi, just a moment, sorry, sorry about that, just a moment, facciamo un secondo di fotografia e poi dopo che mi rendo conto non è some photograph. Do I stand up or? Where? Fantastico, great. Va bene. We can manage, we can manage. All right, all right, all right, all right, all right, I'll see you soon. All right, all right, great. Well... 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 Grazie.